A 5, 4, 3, 2, 1, via 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 via, al triangolo in destra 3, per sinistra 3, per destra 3, 100 al palo numero 4, sinistra 4, vai, 200, sinistra 6 giù tutto, sinistra 6 giù tutto e subito accenno destro per tornante sinistro, 100 in destra 4, per sinistra 6, 50 al muro in destra 5, per sinistra 6, 50 alla righiera c'è la chicane con l'entrata sinistra, 200 al palo in destra 6, per sinistra 6, per destra 5 alle rocce, 100 in destra 6 fuori tutto, 100, destra 6 fuori tutto, 200 alla righiera variante destra, intra destra, alla strada che sale in destra 6, 100 sinistra 5, per sinistra 6 al rail, per subito al rovescio in destra 5, 50 a destra 5 ancora, per sinistra 3, per sinistra 2, per destra 3, per sinistra 4, per destra 3 ancora, 50 a rail sinistra 90, e destra 4 in uscita, 50 in sinistra 6, 100 in destra 4, 50 al palo in cemento, destra 90, 50, destra 90, 50, destra 90 ancora, e esci in sinistra 5 lunga, 100 dopo il 14 in sinistra 3, per destra 4, sinistra 3, per destra 4 vai, e tornante sinistra 15, 100, 100 sinistra 6, per destra 4, e 50, destra 3 no, destra 3 no, alla casa in sasso imposta per tornante destro, 100, 100 in sinistra 6, 50 in sinistra 5, 100 ai birilli, in destra 6 piena, destra 6 piena, 100 sinistra 6, e al giallo tornante sinistro, 100, 100, destra 6 piena, dopo il muro, 100 in sinistra 5, per destra 6, e al rovescio vai, per destra 6, e al rovescio vai, 100 tornante destro, 300 al palo, in sinistra 6, e subito sinistra 2 stretta al 21, sinistra 6, e subito sinistra 2 stretta al 21, per destra 3, 200, alla variante tutta destra, alla variante tutta destra, 100 in destra 6, per sinistra 6 lunga, per destra 6, 200, alla stalla 23, stacca per fine prova. Secondo me siamo andati anche meglio.